è arrivato il nostro amico quello rosso da parte che viene da Greinkel, lo sto filmando vediamo, si è quello rosso, sto andando tranquillo ah è bello, c'è un aereo che dopo si è vicina, vediamo se si vede l'aereo si si vede l'aereo là, si è l'aereo che si avvicina e l'uffo, eh sta proprio bello lì l'uffo l'aereo stava là, è passato e l'uffo non si allontana non so, magari forse provo a farle qualche foto con l'altro, quale? eh, c'è quella della Samsung, si, quasi non lo vedo